Benvenuti, cari follower, in questo nuovo video, in cui vi informeremo sulle zone interessate da pioggia, forti temporali e maltempo domani, mercoledì 4 settembre 2024. Prima di entrare nei dettagli, non dimenticate di sosteneteci e incoraggiateci, premendo il pulsante Mi piace per questo video. Grazie a tutti per il vostro supporto e fiducia. Quindi, per domani, mercoledì, l'aria calda si scontrerà con l'aria fredda e darà luogo alla formazione di forti temporali su diverse zone d'Italia. Tali temporali saranno fortemente attivi nel periodo serale e saranno accompagnati da vento, grandine e pioggia. Sono quindi previsti forti temporali per domani, mercoledì, su tutto il Liguria-Piemonte-Valle, da Aosta-Lombardia, Trento-Alto-Adige, Friuli-Venezia-Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche. Deboli temporali su varie zone di Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia settentrionale e Sardegna. Si attende l'arrivo di un temporale più potente e violento che potrebbe provocare forti alluvioni. A partire da giovedì 5 settembre e vi forniremo i dettagli in seguito.